Benvenuti in questo nuovo video, oggi faremo una challenge, la prova non ridere, challenge! Ok, guarderemo dei video su youtube, avremo due bicchieri d'acqua a disposizione, alla fine chi resterà con più acqua vince, l'acqua verrà sfidata in queste cose, direi di cominciare subito, vai! E' uno, e' due, e' tre! Via! Facciamo anche un po' la voce, così si sente tutto. Aspetta, eccoci, bevi un po' d'acqua. La voce, eccoci, bevi un po' d'acqua. Bevi! Sì Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì.